Vogliamo incominciare questa mattina lo studio di un nuovo seminario intitolato Ascoltiamo lo Spirito Santo. Questo è lo studio numero uno, il titolo Natura e personalità dello Spirito Santo. Leggiamo il testo di riferimento. Giovanni capitolo 16 dai versetti 12, 13 e 14 Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Quando però sarà venuto lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Una breve introduzione generale. Per studiare un soggetto così arduo come quello dello Spirito Santo occorre prima di tutto una speciale assistenza del Signore e poi una particolare attenzione da parte nostra. Non mi sono sentito di intitolare questo nuovo seminario come i precedenti, parliamo del o parliamo di, ma ascoltiamo lo Spirito Santo. Infatti non si tratta tanto di dibattere il tema, ma di prestare attenzione al messaggio dello Spirito, perché lo Spirito Santo ci parla e ci chiama e non dobbiamo resistergli. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi se udite la mia voce, non indurite i vostri cuori, ebrei 3, 7. Per capire lo Spirito Santo e la sua azione, dobbiamo essere capaci di ascoltarlo, totalmente disponibili a fare la volontà di Dio. Ci siano di incoraggiamento le parole di Elena White nel libro Gli uomini che vinsero un impero, pagina 32, il Dio può operare potentemente quando degli uomini si sottomettono al controllo del suo Spirito. Fin qui Elena White. Questo è il punto. Non siamo noi a servirci dello Spirito e Lui a servirsi di noi. E' un'altra affermazione di Elena White. Una vita cristiana senza lo Spirito Santo è come un'auto ferma per strada, con la batteria scarica e il serbatoio a secco. Non può andare da nessuna parte e intralcia il traffico. Il Signore è pronto a darci lo Spirito Santo, ma dobbiamo chiederglielo. Se non glielo chiediamo, vuol dire che non sentiamo il bisogno dello Spirito. Le cose da studiare sono tante. Chiediamo al Signore l'umiltà per capire. Fin qui la sintesi. E ora preghiamo il Signore. Signore, siamo qui davanti a Te con il grande desiderio di approfondire questo tema affascinante e molto difficile. Invochiamo perciò la Tua presenza e il Tuo aiuto. Apri la nostra mente come Gesù l'ha aperse ai discepoli dopo la Ressurrezione per capire le scritture. Noi vogliamo capire, Signore. Dacci perciò la Tua luce e aiutaci ad affidarti la nostra volontà e ad essere docili strumenti di servizio nelle mani del Tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù. Amen. Ed ora, fratelli e sorelle, alcune considerazioni utili. Con il cuore in mano, senza inutili giri di parole, francamente, per cercare di centrare il problema. Diciamo subito che i principali nemici dello Spirito Santo nella Chiesa sono quattro. Perché lo Spirito Santo ha dei nemici. Sono quattro. Il primo. Il primo è il formalismo religioso che praticamente ignora l'opera dello Spirito Santo. C'è una vita cristiana formalistica, se volete legalistica, sono sinonimi, che vorrebbe dirigersi da sola. Si parla. Si parla dello Spirito Santo, si cita lo Spirito Santo, ma si ignora volutamente l'opera dello Spirito Santo. Perché? Ma ve lo lascio immaginare. Il perché l'opera dello Spirito Santo richiede l'aiuto del Signore, certamente. È normale. È sottointeso. Però ci vuole la nostra decisa volontà per farci aiutare dallo Spirito Santo. Vi sono persone che non vogliono farsi dirigere dallo Spirito Santo. Vogliono dirigersi da sole. Quindi il primo ostacolo, il primo nemico nello Spirito Santo nella Chiesa, tra i credenti, e io direi tra i credenti soprattutto della Chiesa cristiana avventista del settimo giorno, è proprio il formalismo, il legalismo. Un secondo nemico molto agguerrito è questo. È il sentimentalismo religioso che trasforma l'opera dello Spirito in pericolosa emotività con la ricerca dell'estasi e del miracolo. Questa è una corrente cristiana diffusissima oggi fuori della Chiesa avventista del rimanente e dentro la Chiesa avventista del rimanente. Cioè queste persone, se inconsciamente o consciamente non lo sappiamo, è difficile dirlo, soltanto il Signore lo sa, sanno trasformare l'opera dello Spirito Santo, la sua azione straordinaria, in un vago sentimentalismo è in una pericolosa emotività. Lo Spirito di profezie ci dice che noi dobbiamo basare la nostra fede non sulle emozioni, dobbiamo basarla sui principi. Quindi facendo seguito a questa emotività, una emotività diffusissima, ci sono il miracolo, la ricerca del miracolo, è una specie di estasi, di vago sentimentalismo, di contemplazione, un po' come si vede nella storia dei mistici cattolici. No, questo è un nemico dell'opera dello Spirito Santo. Come un nemico, abbiamo detto, il primo è il legalismo, il formalismo religioso che praticamente ignora la serietà all'opera dello Spirito Santo. Questo secondo nemico direi quasi che è peggiore del primo. Perché? Perché trasforma una cosa seria, la ricerca potente di Dio, in un vago sentimentalismo. E allora ci si aspetta che nella Chiesa, nella propria vita, nella vita degli altri, si manifesta questo miracolo. Miracolo senza condizioni. Riprenderemo il discorso quando parleremo della contraffazione dello Spirito Santo. Terzo pericolo. Il terzo pericolo consiste nell'abitudine a trattare l'argomento dello Spirito Santo solo ed esclusivamente dal punto di vista teologico-teorico. E allora si scrivono libri, si disserta sullo Spirito Santo e si cita il greco, e si cita il latino, e si cita l'ebraico, e si cita l'aramaico, tutto quello che volete. Però è una teoria. Si parla solo dal punto di vista teorico, teologico, senza nessuna attinenza alla vita pratica del credente. E allora no. E allora non siamo d'accordo. Lo Spirito non è d'accordo. Perché lo Spirito è la forza trainante del credente della Chiesa. Non è una teoria teologica. Come d'altronde teoria teologica è tutto il resto del cristianesimo. Per la maggior parte dei teologi si disserta, si discute in tante accademie. Ma a nessuno viene in mente di dire, ma Gesù Cristo, che cosa intende con le sue parole? Che cosa vuol dire? Parlando di questo Consolatore che verrà, che non vi darà del suo, ma vi annuncerà quello che avete udito ricordandovelo, e vi annuncerà le cose future, le cose a venire. Quindi terzo nemico, un nemico tremendo, vestito da teologia togata, sia cattolica, sia protestante, sia ottodossa, sia anglicana, sia purtroppo anche avventista del settimo giorno. E perché no? Perché noi siamo messi al riparo da questi pericoli. Al contrario, siamo tremendamente esposti a questi pericoli, specialmente oggi. e poi quarto e non ultimo. Quarto pericolo. L'indifferenza o l'aperta ostilità verso coloro che invece si pongono il problema e cercano di vivere secondo i dettami dello Spirito Santo. l'indifferenza. Quando si vede un fratello, una sorella, che sono guidati dallo Spirito Santo, lo si vede, lo si sente da come praticano il loro cristianesimo, da come testimoniano, senza enfasi, senza sentimentalismo, senza le emozioni patologiche direi, senza il legalismo, senza il formalismo. Ebbene, quelle persone che osservano, osservano con indifferenza, con ostilità, neanche nascosta, aperta. E la cosa che si dice generalmente, ed è sbagliata, ah ma quelli sono dei fanatici. Quindi, riepilogando, diciamo che il primo nemico è il formalismo religioso, il legalismo. Il secondo, il sentimentalismo e la pericolosa emotività. Il terzo è l'abitudine a trattare l'argomento solo dal punto di vista teologico, teorico, punto e basta. E poi il quarto, l'indifferenza o l'aperta ostilità verso quelli che si pongono il problema e cercano di vivere, come abbiamo detto, secondo gli insegnamenti dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, statemi bene a sentire ora. Essendo lo Spirito Santo Dio, perché Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. Ripeto, essendo lo Spirito Santo Dio, chi non lo ascolta, non ascolta il Padre, non ascolta Gesù, non ascolta la Bibbia, perché Gesù è la parola di Dio, è la verità. Studiando accuratamente la Bibbia e lo Spirito di profezia e considerando onestamente la nostra situazione spirituale, abbiamo la netta impressione di essere in realtà cristiani senza energia spirituale. Nelle nostre relazioni interpersonali, nella nostra vita di Chiesa, nella nostra predicazione, nella nostra evangelizzazione. E questa è la vera causa dei nostri tanti insuccessi e del ritardo del compimento dell'opera e per conseguenza del ritorno di Cristo. E invece noi abbiamo a nostra disposizione una quantità inesauribile di energia, di potenza, cioè lo Spirito Santo. Ma perché allora non dobbiamo attingere a questa fonte prodigiosa? Forse perché non vogliamo pagare il prezzo morale per averlo, e cioè fede assoluta, disponibilità assoluta, ubbidienza assoluta. Con lo Spirito Santo non si patteggia come non si patteggia con il padre e con il figlio. prendere o lasciare? Elena White dice in Le Ministero Evangelico, il Ministero Evangelico, pagina 28, molti cristiani non sono disposti a lasciarsi guidare. Vogliono dirigersi da soli. È per questa ragione che non ricevono questo dono dal cielo. Solo quelli che umilmente aspettano da Dio il consiglio e la grazia riceveranno lo Spirito Santo. Fin qui la sorella White. Ma la sorella White mette sempre in relazione l'opera dello Spirito Santo con la trasformazione del carattere, cioè la santificazione in fatto di trasformazione del carattere. Noi siamo abbastanza superficiali e sbrigativi e manchiamo di un serio impegno. Diciamo, sono fatto così. Oppure, cosa posso farci? Sono le nostre abituali conclusioni, altrettanto comode e attenuanti che danno ragione alla dichiarazione biblica contenuta in ebrei. 12.4. E che dice? Voi non avete resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Fratelli e sorelle, dobbiamo spezzare il circolo vizioso. Senza Spirito Santo non ci può essere trasformazione del carattere. E senza trasformazione del carattere non ci può essere Spirito Santo nella nostra vita. Le nostre generiche frasi continuamente ripetute, tipo, siamo in attesa della pioggia dell'ultima stagione. Oppure, quando la pioggia dello Spirito Santo cadrà, spesso tradiscono solo la nostra pigrizia ed evidenziano la nostra estraneità al problema che invece è strettamente personale. Perché Gesù dice, lo ricorderete, se dunque voi che siete malvaci, sapete dare buoni doni ai vostri figlioli, quanto più il Padre vostro celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo domandano. Luca 11,13. Non si può chiedere qualcosa se non la si desidera. Non si può desiderarla se non ci si rende conto della sua importanza. È chiaro? Mi pare di sì. Un'altra riflessione è d'obbligo e trascina altre domande. L'azione dello Spirito Santo è misteriosa, come dice Gesù a Nicodemo, Giovanni 3, versetto 8. È come quella del vento. Lo Spirito non può essere usato, strumentalizzato, imprigionato nei nostri schemi mentali. Dio non può essere né imprigionato né incatenato, ovviamente. Questo si capisce, no? Ma se noi non spezziamo il circolo vizioso, di cui parlavo prima, ci autocondanneremmo a un formalismo sempre più pericoloso. Succede, e mi scuso per il paragone un po' banale, succede con lo Spirito Santo e il formalismo ecclesiastico. Quello che succede quando si va in certi ristoranti, coperto discreto, sorrisi del cameriere, musica in sottofondo, ma si mangia poco e male e costa caro. Si va in chiesa a cercare cibo spirituale e si esce con più fame di prima. Si ascoltano discorsi semifreddi, sbrigativi e inconcludenti, che lasciano l'anima vuota, perché chi li fa non sente il bisogno di lasciarsi guidare dallo Spirito Santo. Fratelli e sorelle, ricordiamoci dell'esortazione ripetuta ben sette volte nell'Apocalisse. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E ora incominciamo a studiare il tema. Una teoria molto diffusa insegna che lo Spirito Santo sarebbe una forza, un influsso e non una persona. All'inizio della nostra chiesa molti pionieri, con il pioniere Uraia Smith, descrivevano lo Spirito Santo come quell'emanazione divina, misteriosa, attraverso la quale essi, il padre e il figlio, realizzano la loro opera grandiosa e infinita. Lo dicevano molti pionieri, parlavano dello Spirito Santo come di quella emanazione divina. In un'altra occasione Uraia Smith definì lo Spirito Santo come un influsso divino e non come una persona, paragonabile al padre e al figlio. questo lo disse nel 1891 da George Knight alla ricerca di un'identità. Sviluppo delle dottrine avventiste fondamentali, pagina 13 e 14. Quindi vedete che anche noi avventisti del settimo giorno, in quel tempo non avevamo le idee chiare, non avevamo le idee chiare circa la personalità dello Spirito Santo. Adesso vorrei dare la parola al mio vecchio professore Alfredo Felice Voschè, nel suo libro La storia della salvezza, Histoire du salut, pagina 198, che dice «vi sono dei versetti nella Bibbia dove lo Spirito Santo è ben designato semplicemente come un dono, una forza o un organo» Luca 1.35 Atti 1.8. Ma altri testi in gran numero danno allo Spirito Santo, tutti gli attributi della personalità. Nel Nuovo Testamento lo Spirito Santo pensa, vuole, parla, ordina, testimonia, insegna, prega, tutte attività che non si spiegherebbero se lo Spirito Santo non fosse dotato di coscienza e quindi di personalità. Seguono diversi testi come Giovanni 14.26, 15.26, Atti 13.2, Romani 8.26.27 e Primo Corinzi 2.10.11 e altri ancora. Leggo ancora Elena White nel libro Gli uomini che vinsero un impero, pagina 33-34. La natura dello Spirito Santo è un mistero. Gli uomini non possono spiegarlo perché il Signore non gliel'ha rivelato. Uomini dotati di fantasia potrebbero mettere insieme alcuni passi delle scritture e basare su di questi una particolare dottrina. Accettare queste idee non contribuirà però all'edificazione della Chiesa intorno a tali misteri, al di là della comprensione umana, il silenzio è la scelta migliore. Fin qui Elena White è abbastanza forte diciamo nel suo discorso e allora noi potremmo dire a questo momento ma perché andiamo avanti nel nostro seminario se la serva del Signore dice che il silenzio è la scelta migliore se non che la Bibbia parla diffusamente dello Spirito Santo e delle condizioni perché il credente possa gioire dello Spirito Santo. Quindi è lecito parlare per capire ma non per fare violenza ai testi e fargli dire quello che i testi non dicono. Cioè ci dobbiamo accontentare di queste dichiarazioni. La natura di Dio, la natura del padre, la natura del figlio e per conseguenza la natura dello Spirito Santo è un mistero. La Bibbia enuncia, afferma certe verità ma non le spiega, non le spiega. I sapientoni naturalmente, gli orgogliosi, i grandi cervelloni, gli intellettuali, filosofi, teologi non si accontentano, non si accontentano dei loro limiti, vogliono andare altrove e dicono delle stupidaggine. Cioè fanno dire alla Bibbia quello che la Bibbia non dice, lo dicono loro. La Bibbia enuncia verità come questa del padre, del figlio, dello Spirito Santo ma non le spiega. La Bibbia non incomincia con le parole ipotetiche. Adesso io, Mosè, vi dimostro come Dio esista. Noi sorridiamo a questa frase, abbastanza sciocca. La Bibbia incomincia con questa frase, nel principio i Dio. Quando saremo alle scuole superiori del cielo capiremo meglio. Ma io dubito che si possa sondare un mistero così grande. La sorella Wai dice che noi in tutta l'eternità non riusciremo a sondare il mistero dell'amore di Dio. Ma che cosa vogliamo capire adesso? Noi con la nostra presunzione e con la nostra pochezza spirituale e intellettuale. Solo che quello che è chiaro che noi dobbiamo fare, dobbiamo accettare. Quello lì lo possiamo capire benissimo. Invece di andare a speculare su quello che non riusciamo a capire perché il Dio non ce l'ha rivelato. Cerchiamo di mettere in pratica quello che è chiaro e che il Dio ci ha rivelato. Adesso alcune caratteristiche che lo Spirito manifesta e che implicano personalità. Personalità. Lo Spirito Santo è una persona. Abbiamo detto lo Spirito Santo parla, ordina ai discepoli di andare da una parte, di andare dall'altra. Parla. Una forza non parla. Un influsso nemmeno. Agisce. Lo Spirito Santo agisce. Luca 2, 25 a 27. Lo Spirito Santo ordina. Atti 13, 2 e 4. Lo Spirito Santo vieta. Atti 16, 6 e 7. Conferisce uffici ecclesiastici. Atti 20, 28. Lo si può offendere. Lo si può contrastare. Matteo 12, 31, 32. Lo Spirito Santo può essere rattristato. Efesini 4, 30. E adesso permettetemi di citare Giancarlo Farina nel suo libretto La Torre di Guardia alla luce delle Sacre Scritture. Una domanda che pongo spesso ai testimoni di Geova è quella di dirmi se lo Spirito Santo può intercedere per noi presso il Padre. La maggior parte di essi mi risponde che ciò è impossibile, essendo semplicemente la forza di Dio. Ha una risposta simile. Cito Romani 8, 26, 27. Che dice lo Spirito soviene alla nostra debolezza perché non sappiamo pregare. Come si conviene? Ma lo Spirito intercede Egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Sì, fin qui Giancarlo Farina. È una cosa interessante. Lo Spirito intercede per noi. Lo Spirito prega. Lo Spirito interviene. Lo Spirito parla. Ci aiuta. E adesso dal Dizionario di Dottrine Bibliche, pagina 387-386, trago quanto segue. Lo Spirito interviene. Lo Spirito è un essere personale. Quattro volte Giovanni, nel riferire il discorso del commiato del Maestro, adopera il pronome personale in relazione allo Spirito Santo. In Giovanni 14, 26, sta scritto, Egli, Spirito Santo, vi insegnerà ogni cosa. E capitolo 15, versetto 26, Egli testimonierà di me. Con l'usare il pronome personale, Giovanni ha voluto sottintendere che stava riferendosi a una persona, non a una cosa. Altrimenti avrebbe adoperato il pronome neutro, come vuole la logica della grammatica greca. In Atti 10, 20, lo Spirito stesso parla di sé col pronome personale. Dice a Pietro, riguardo agli uomini mandati da Cornelio, Va con loro, senza farti né scrupolo, perché sono io, io che li ho mandati. In Giovanni 14, 16, Gesù dice ai dodici, che il Padre manderà loro un altro Consolatore. La frase sottintende che quello che se ne va sarà sostituito dal Consolatore che verrà e che prenderà al suo posto. Poiché il Consolatore, Gesù, che se ne va, è una persona, anche il Consolatore, Spirito Santo, che verrà, dovrà essere una persona. Però, in altri punti ancora, la scrittura parla dello Spirito come di una forza di cui sono percettibili gli stessi effetti fisici. Giovanni 3, 8, Atti 2, 2, Atti 4, 31. O come di una potenza che investe e pervade gli uomini dotandoli di facoltà soprannaturali i carismi o i doni dello Spirito, dei quali si parla in 1 Corinti 12, 8 a 10, 28. I primi cristiani possono avere confuso e qualche volta identificato consapevolmente lo Spirito con le sue manifestazioni sensibili, donde i riferimenti a esso invece che a egli come ad una forza attiva di cui si può essere dotati in misura variabile. Comunque, si vogliono intendere le espressioni bibliche che sembrano alludere allo Spirito come a una entità qualificabile? Resta il fatto, indiscusso, che sono di gran lunga più abbondanti i passi nei quali sono riferiti ad esso qualità e caratteristiche inconfondibilmente personali. E adesso il concetto di divinità composta. Non vi impaurite, cerchiamo di rendere il concetto abbastanza chiaro. Il concetto di divinità composta, della divinità o unicità della divinità. Romani 11, 33. Che dice l'Apostolo? O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto inscruttabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie! È impossibile comprenderle perché noi siamo creature limitate. Non ce lo dimentichiamo! Perché noi siamo di natura figlioli d'ira! Siamo orgogliosi, presuntuosi, peccatori! Deuteronomio 29, 29. Le cose occulte, le cose nascoste, appartengono al Signore nostro Dio. Ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli, per sempre. Perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. Quindi ci sono cose rivelate, ma ci sono cose nascoste. La Bibbia non rivela tutto, rivela in parte. Non ce lo dimentichiamo! Allora, uno dei misteri della natura di Dio è che la sua divinità si manifesta in tre esseri divini, uniti nei propositi e nell'azione, ma distinti nella personalità. La natura di Dio è un mistero, lo ripeto, è un mistero per tutti, semplici e dotti, dotti e semplici. La natura di Dio è un mistero al di là delle nostre possibilità di comprensione. L'unicità di Dio è stata dichiarata ai tempi di Mosè con le famose parole del Deuteronomio 6,4 «Ascolta Israele, l'Eterno, l'Idio nostro è l'unico e eterno». Gesù, quando ha enunciato il primo comandamento, ha citato proprio questa affermazione, Marco 12,29. Da questo deduciamo che la fede cristiana è monoteista, ha un solo Dio, monoteista. Ricordiamo però che Gesù ha detto ai suoi discepoli di battezzare nel nome, non nei nomi. Quindi, attenzione, di battezzare nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, Matteo 28,19. E questo indica che siamo davanti a tre persone in una. Questi ed altri testi confermano che il nostro Dio è uno, ma si manifesta in tre persone. È un mistero incomprensibile che accettiamo per fede perché le scritture lo rivelano. Notiamo, ripetiamo, nella formula battesimale, che il termine nome è al singolare. La parola persona, per essere intesa in senso teologico, Se paragonassimo la personalità umana a Dio, potremmo dire che le tre persone significano tre individui, cioè nel nostro caso a tre dei. Ma il cristianesimo storico, adatto alla parola persona, intesa in senso teologico, un significato speciale, che permette di individuare le caratteristiche specifiche delle persone, della divinità, senza distruggere il concetto di unicità. E adesso, sempre nel dizionario di dottrine bibliche, alla pagina 413-414, parliamo di Trinità. Trinità non è un termine biblico. È un vocabolo che i teologi della Chiesa usarono a partire dal II secolo per definire un concetto dogmatico che, se non è in conflitto con la scrittura, va tuttavia al di là di quanto in essa è rivelato. Non di meno, l'idea di base che evoca questo vocabolo, un Dio solo, distinto in tre persone, è biblico. Se la dottrina trinitaria non si trova affermata in modo drammatico e categorico nel Nuovo Testamento, essa è tuttavia deducibile oggettivamente dai Vangeli e dagli scritti apostolici. Fin qui il dizionario di dottrine bibliche. Siamo riusciti a gettare un po' più di luce sul problema? Io credo di sì. Leggiamo con attenzione i testi citati. Riflettiamo a quanto abbiamo detto. Ricordatevi una cosa, che la Bibbia è la verità di Dio rivelata. C'è una parte della verità di Dio, quanto non lo sappiamo, non è rivelata. Perché? Ecco, lì si pone il problema. Noi siamo degli eterni bambini, perché questo, perché quell'altro. Ci sono delle cose che noi possiamo capire, che i bambini possono capire, ci sono delle cose che i bambini non possono capire. E quindi noi diciamo quando sarai cresciuto capirai meglio. I bambini si stizziscono, incominciano a dire ma quando è che io potrò capire, eccetera, eccetera. Poi, riandando col pensiero al passato, riconoscono di comprendere meglio certe cose che prima, ed era logico, non riuscivano a capire. Voi conoscete i simboli dello Spirito Santo. Gesù ha detto a Nicodemo tu il vento lo puoi sentire, ti rendi conto che c'è il vento, ti rendi conto se sia una brezza o se sia un vento che precede, accompagna un uragano. però non sai da dove viene il vento, non sai dove vada questo vento, però ne senti gli effetti, ti accarezza il viso o ti fa correre in casa per ripararti. Lo Spirito Santo, quando discese sugli Apostoli, alla Pentecoste, si manifestò con un vento impetuoso che invase tutta la Camera Alta, un vento, il vento, il vento dello Spirito, che bella espressione. Secondo simbolo, dopo quello del vento, è il fuoco. Nella Camera Alta, alla Pentecoste, lo Spirito Santo, che si era accompagnato dal vento, si accompagnò anche con delle fiammelle di fuoco che si posarono sulla testa di ognuno dei presenti, il fuoco, fuoco purificatore, il fuoco che distrugge il peccato. Un giorno distruggerà i peccatori impenitenti, mentre si posa sul capo dei peccatori penitenti che sono uno con il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, che sono d'accordo, che non si visticciano il vento, il fuoco, l'acqua, l'acqua, l'acqua che, senza la quale non si può vivere, senza la quale non si può vivere. Noi possiamo non mangiare per tanti giorni, mi dicono, bisognerebbe dirlo ai digiunatori famosi, ma non possiamo vivere senza acqua. Si può vivere senza pane per diversi giorni, ma senza acqua. l'acqua purificatrice, l'acqua che scende come la pioggia, come la neve e che produce i suoi frutti straordinari. Oltre il vento, il fuoco e l'acqua, lo Spirito Santo viene simboleggiato dall'olio, vi ricordate la visione di Zaccaria al capitolo 4, l'olio, l'olio con il quale venivano unti i sacerdoti, l'olio che è simbolo di benedizione, è simbolo di grazia e venivano cosparsi anche certi sacrifici. Poi è simboleggiato dalla luce, oltre il vento, il fuoco, l'acqua, l'olio, la luce, la luce senza la quale non possiamo vivere. Apocalisse 4, 5 Dal trono uscivano lampi, voci, tuoni, davanti al trono c'erano sette lampade accese che sono i sette spiriti di Dio, lo Spirito che si manifesta nella luce e poi anche ed è bella questa immagine della colomba che rappresenta lo Spirito. Al battesimo di Gesù ecco che c'era una colomba che scende e era lo Spirito che scendeva sul Figlio. Al battesimo di Gesù era presente la Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Il Figlio che si fece battezzare, la colomba era lo Spirito Santo in forma corporea, il simbolo della pace, il simbolo dell'amore, della umiltà. Il Padre che diceva questo è il mio diletto figliuolo ed ora vorrei per terminare leggere una citazione di Elena White al libro Le Minister Evangelique Il Ministero Evangelico pagina 279 La predicazione della parola non è efficace senza l'aiuto dello Spirito Santo poiché lo Spirito è il solo vero maestro della verità divina. La verità non può ravvivare la coscienza e trasformare la vita se non è assistita dallo Spirito. Un predicatore può essere capace di spiegare la lettera della parola di Dio può conoscere bene tutti i suoi comandamenti e tutte le sue promesse ma seminerà l'Evangelo senza risultato se il seme non è accompagnato dalla rugiada del cielo senza l'aiuto dello Spirito nessun insegnamento nessun vantaggio per grandi che possono essere non possono fare di qualcuno uno strumento di luce. Lo Spirito Santo discese sui discepoli in preghiera prima che un solo libro del Nuovo Testamento fosse stato scritto e prima che un solo sermone fosse stato predicato dopo l'ascensione. Ecco la testimonianza degli avversari del Vangelo secondo Atti 5 28 avete riempito Gerusalemme delle vostre dottrine. Fin qui Elena White che a orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Amen.